Ciao a tutti amici, benvenuti in un canale di linea. E questi qua sono i nostri gattini di oggi e abbiamo un miliardario, un polpo, due tris e due monetine. Allora due coppie e due singoli. Vediamo, incominciamo dalle monetine, ok, sono più piccoline, se la stiamo tornata, monetine e tris. Ok, allora, incominciamo dal numero 10 al numero 66. Ok, vediamo un po' quello che ti dico. Buona misura a tutti amici. Vediamo, 20, 30 e 5. Poi abbiamo 10, 10 e 10. Il bolletto non è un vincente. 20, 30, 40, 50, 65. No, il bolletto numero 10 non è un bolletto vincente. Andiamo col trissi. Questo è il numero 73 della serie 72. Ok, vediamo. Tre simboli uguali, ricordo. Farfalla, albero e albero. Guardiamo, portafoglio, corona e portafoglio. Continuiamo con l'anello con l'anello, coccarda e sole, niente. Ultimi tre, lingotto, fiore e carta. Entri a fare amici, numero 73 della serie 72, non è un vincente. Adesso andiamo con l'altra monetina, numero 11, serie 66. Ok, vediamo. 5, 10 e 5. 50, 5 e 10. Monetina non vincente. 50, 60, 70, 80, 5. Bene. Ciao. Andiamo con l'ultimo trissi, che è un numero 63 della serie 72. Ok. Vediamo così. Soldi, pepita e perla. Poi abbiamo perla, monete e monete. Continuiamo con l'anello, salvadonnaio e salvadonnaio. Ultima giocata, fiore, fiore e fiore. Ok. Qui abbiamo una ventidina, numero 63 che dà 5 euro, grazie, meglio di due, grazie numero 63. Adesso andiamo con il nostro miliardario. Questo è il primo del pacco 34. Ok. Forse devo chiudere un po' o va bene così? Penso che va bene così. Ok. Numeri vincenti. 15, 17, 34, 46 e 12. Primo numero 39. Poi abbiamo 33 e 37. 34 no, eh. Poi abbiamo 19, no. 42 e 43. Niente da fare. Abbiamo 46. 11, 21 e 29. Abbiamo 27. Non ho la ventina. 26, non ho la ventina. E 45. Ecco qua. E noi abbiamo 46. Continuiamo con 18. No abbiamo 17. No abbiamo il 14. No abbiamo il 15. E finiamo col 32. 42. Che non c'è amici. Biglietto. Non c'è amici. Biglietto. Non c'è amici. Numero 00. Bellino nero. Non è fortunato. Andiamo con poco. Scusate. Questo è un numero 58. La serie è 59. Ok. Vediamo. 2. Simboli vincente. Abbiamo la macchina. Il cappello. La giacca. E il gilet. Ok. Vediamo un po'. Primo simbolo è una mela. Poi abbiamo un hamburger. E qui abbiamo una foto. No. No. Qua. continuiamo con la scarpa. Niente. Il quadro. E qui abbiamo un pattino. Niente da fare. Poi abbiamo una lampadina. Le patatine. E il globo. Niente. Continuiamo con la cassetta. il portamonete. E le labbra. Niente. Ultimi tre simboli. Abbiamo un walkway. Questo è una radio. Che io non ho. E finiamo. Con gli occhiali. Eh no. Niente amici. Biglietto. Non mi sento. Ok. Adesso andiamo. Ok. Adesso andiamo di più su Giolli amici. Ok. Lo aggiungiamo. 40. Tanto abbiamo tempo. Ok. Eh. Questo è il numero 45 della sui lettori. E vediamo un po'. Devo chiudere poco a poco. Ecco. Vediamo poco a poco. Ok. Parolina Giolli e Duna. Incominciamo con le prime tre lettere. Eh. Proprio belle sono. Le prime tre lettere. Eh vabbò. Tutto strano. Allora. la I8 non la vedo. La K. Tanto meno. E la X. Ancora di meno. Eh. Andiamo. Avanti. Adesso abbiamo una A. Ok. Che troviamo nella parolina Giolli. A. Una. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Sette. Otto. E nove. Nove A. Questi non ci sono. Allora. La. L'abbiamo fatta. Adesso facciamo la S. Sette. Vediamo se c'è la S. Allora. S. Qui c'è una. Una. Due. Tre. Quattro. Ok. Sette. Vediamo se troviamo la P. Vediamo se troviamo la P. Una. Due. Tre. Quattro. Per il momento ne vedo quattro. Andiamo alle prossime tre lettere. Cominciamo con la R. Allora. R. Qui c'è una. Due. Una. Due. R. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Non c'è male. Otto. Vedo otto R. Poi abbiamo la U. Poi abbiamo la U. Di Duna. Ok. Allora. La U di Duna. Vediamo. Qui c'è n'è una. E sono due. E non ne vedo altre. Poi abbiamo la G. G. Eccola una. E' la prima parolina. Questa è una figa. Non ho visto prima. Allora la G. Stavamo dicendo. G. Non vedo G. Allora la G. Per il momento è tutto. Poi abbiamo le prossime tre lettere. E' la prima parolina. Qui c'è n'è una. Z. La vedo. Allora. C. Qui c'è n'è una. Z. La vedo. Ok. La Q mi sembra che non averla vista. Continuiamo con le prossime tre lettere e abbiamo un'H che ho già visto. Eccola. La vocale non c'è una data. Solo la A. Stano. Allora l'H. Poi abbiamo la O. Le O ci sono di solito. Una. Questa è una G che avevamo visto prima. Allora la O. Qua c'è un'altra. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Ok. E poi abbiamo la D di una. Ok. La D. Qui ne vedo una. Qua che la vocale ci devo dare. Eh. Allora. Qui c'è un'altra U. La B non è uscita no? No. Allora. Vediamo. Questa è una L. La L. La I. La I. La L. Eccola una. Una L. Una L vedo io. Va. Poi abbiamo una C. Vediamo. Sette. Una parolina ho visto io per un momento. Allora. Allora. Cinque. Ne vedo. Tre. Due. Tre. L'ultima è la X che la vedo già. Non la Y. Ma lo stesso. Ma. Il buglietto. Non so io che non ne vuoi. La N non ce l'ha data. La F ce l'ha data. Ma la E no. La E no. La L. La E no. Allora L. C. E. Non c'è niente. No amici. No. Niente. Qua c'è un attimo. Non ce ne facciamo niente. Ok. Controlliamo le applicazioni. Ok. Amici. Il buglietto non è vincente. Ok. Anche se lo salvo a che letta la mamma è importante. Perché il buglietto non è vincente. Il nostro video finisce così. Abbiamo gastato alla fine due buglietti da cinque. Due da cinque. Eccoli. Due da cinque. Uno da tre. Due da due. E due da una. Unico recupero l'abbiamo fatto col triff. Abbiamo preso cinque euro. A questo non sono come raggiunto. Intanto ringrazio tutti per la vicenda. E mi riappuntamento al prossimo video. Iscrivetevi quando vi date un polluto in su. Ciao a tutti. Un bacio e un abbraccio alla linea. Ciao. Al prossimo video. Ciao. Ciao. Grazie a tutti.